questo esercizio avremo bisogno solo di un paio di manubri e del pavimento una volta afferrati i manubri dobbiamo sdraiarci a pancia sopra sul pavimento con le gambe piegate e i piedi appoggiati a terra le braccia sono distese e i manubri sono rivolti verso il soffitto fatto questo ci dobbiamo assicurare di portare le spalle indietro e attaccare le scapole una volta fatto questo dobbiamo semplicemente piegare le braccia arrivare con i gomiti a toccare il pavimento e poi distendere nuovamente le braccia verso il soffitto dobbiamo fare attenzione che nella posizione di discesa i manubri siano posizionati all'altezza del petto e non vicino alle spalle